E adesso è venuto il momento per noi femminucce di sognare con le creazioni di chi sa i preti. Guardate questo cappottino di lana rosa, una vera chicca. E gli stivali stupendi. Le tinte accese sono le protagoniste di questa sfilata, dal sapore bon tonne e assolutamente irresistibile. Adoripua, in ogni declinazione. Che belle queste sciarpe. Musica 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 Musica